NAPOLI NAPOLI Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? E che cosa sei? Bello il mio dottore! Adesso che il dottor Pirlo è andato in pensione, avremo un nuovo dottore! NAPOLI 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 è finito di spogliarti c'è fuori tutto per sapere a nome del gruppo vi ringraziamo per questa forte partecipazione per i caldissimi applausi che sempre ci fanno piacere però devo dire che senza tutto il senza tutto il cast e il personale dietro lo staff che ci ha aiutato non avremmo potuto essere qua e fare questa rappresentazione quindi ringrazio Matilde l'assistente alla regia Michele assistente alle scene Faltotum poi le due gemelline Stefania e Federica ai trucchi e costumi e poi il leader dei suoni, luci, scene, tutto Stefano David allora regia Davide e Ricchi grandissimo applauso per Riccardo e la nostra Miriam grazie grazie bel pubblico, bravo pubblico tantissime risate siamo contenti di au e di questo che ha passato cazzo a me sconfia siete state bravissime ci siete fatte tante di quelle risate no che ridere fa bene a voi ha fatto bene a noi ci avete fatto divertire però veramente bravissime ringraziamo l'oratorio OSL che ci ha dato la possibilità di fare questo spettacolo tutti i ragazzi sono andati da fare in questo tempo ce ne abbiamo messo parecchie settimane un bel lavoro siamo contentissimi parte dell'incasso del biglietto che avete acquistato va per le spese di restauro dell'oratorio dite ai vostri amici che non sono venuti quelli che se volete venire ancora voi saremo se volete al 27 di maggio martedì sera al teatro Ratti di Legnano ciao buonasera grazie a tutti più l'ampione da lì è un'ombriata che dice a postanna la porta ma la roccia non c'è a trempisa non dormi più una bocchella vorrei a scurda gente di cito ma come già vanno pigliano la pastiglia grazie a tutti grazie a tutti